Buongiorno a tutti e bentornati in un nuovo appuntamento meteo. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare il like e attivare la campanellina per essere sempre aggiornati. Ora andiamo a monitorare le previsioni per il weekend. Per quanto riguarda la giornata di venerdì 18 dicembre, ci sarà una certa nuvolosità irregolare che interesserà soprattutto la Val Padana, le isole maggiori e parte delle regioni tirreniche. Con qualche pioggia su Liguria di Levante, Alta Toscana e in Sardegna. Deboli piogge interesseranno anche il nord-ovest a fine giornata. Il resto d'Italia non avremo grossi cambiamenti, con prevalenza di schiarite e maggiore apertura del cielo, soprattutto lunghi versanti adriatici. Il sole ci sarà anche al sud, ad eccezione dell'arrivo delle nubi, anche compatte, lungo le aree ioniche. Qualche pioggia in giornata arriverà anche sulla Sicilia. Quanto riguarda il weekend, le condizioni atmosferiche andranno a deteriorarsi fino a sabato con piovaschi più intensi tra Liguria Toscana e le isole maggiori. Tra sabato e domenica ci saranno piogge che raggiungeranno poi buona parte del nord-ovest dove si farà avanti un vero e proprio fronte, con qualche nevicata sugli Alpi occidentali già a partire con fiocchi dai 900.000 metri. Nel corso della giornata di domenica la perturbazione coinvolgerà parte delle regioni tirreniche e del sud Italia con qualche pioggia rovescio che potrebbe farsi più insistente a tratti. Comunque si tratterà di fenomeni moderati oppure deboli, ma invece nei versanti orientali della penisola sarà abbastanza asciutto. Per ora è tutto, ci vediamo al prossimo appuntamento meteo. Inoltre ricordatevi che vuole si prescrivere i canali di Neian Channel, Fabrizio 1961 e Gianluca Cannone. Alla prossima!